Pronte le valigie? Ma quanti siamo a partire per il The Invitational di Charmaine Shake? Una trentina? Ah però, di più? 50? No eh? 70? No, ancora di più! Ah, 10 per forza, arrivano da tutta Italia! 116 partecipanti con 84 giocatori in campo per una gara di due giorni che mette in paglia un premio ogni buca, compreso un anello in diamanti come in maniera studefina. Wow! The Invitational dal 18 al 26 marzo al Dominal Choral Bay di Charmaine Shake. La prossima volta, non mancare, Domina Gold Television in Tour, proprio come piace a te. Just the way you like it.